Qualcosa si muove in casa Teramo, soprattutto in uscita, ed è la questione che per il momento interessa maggiormente il club bianco-rosso. La fermana, che sembrava spingere forte su Sanzovini, ha virato sul profilo di Arturo Lupoli, superando anche la concorrenza della casertana. Ma altri hanno già trovato l'accordo per lasciare la maglia del diavolo. Questo perché Federico Carraro e Stefano Scipioni, proprio sul finale, hanno risolto il proprio contratto col sodalizio del patron Campitelli. Con gli arrivi ufficiali di Mancini e Sumare, la rosa è praticamente completa. Intanto Asta continua il suo lavoro sul campo, considerando che domenica sarà una giornata di riposo in campionato. Non ci voleva secondo me, perché comunque parti, rompi il ghiaccio, fai una buona prestazione con un pareggio al 94esimo. Quindi, secondo me, se giocavamo domenica era meglio, però purtroppo il calendario ha voluto questo. Quindi, niente, ci alleniamo bene, anche perché comunque anche i ragazzi che magari sono meno in condizione hanno la possibilità di lavorare. Quindi lavoriamo con serenità, aspettiamo la prossima. Dobbiamo migliorare in tante cose, perché comunque siamo la prima di campionato, siamo un gruppo nuovo, quindi dobbiamo migliorare in tante cose. In una in particolare non mi viene in mente niente, perché tanti gol si sbagliano, i difensori sbagliano, i centrocampisti. Quindi l'errore in sé per sé tecnico non mi interessa sinceramente, però l'importante è che la squadra ha avuto proprio a livello caratteriale un impatto col campionato importante. Noi, come caratteristiche di squadra, vogliamo cercare di giocare nella metà campo avversaria. Quindi è un sistema che è comunque nuovo per noi, però penso che sia un ottimo modo di interpretare il calcio a mio punto di vista. Quindi è normale che se provi a giocare nella metà campo avversaria sei portato a scoprirti, ma comunque allo stesso tempo noi dobbiamo cercare di avere equilibrio. Quindi è un modo di difendere che a me personalmente piace, quindi spero che lo continuiamo a fare.